Amici di Angelo di Television, mi trovo a Un Passo da Reggio Emilia, siamo all'Eden di Villa Cella per l'inaugurazione della stagione invernale 2009-2010. Grandi ospiti, grande serata, venite con noi. Amici di Angelo di Television, sono qui con Marcello, uno degli organizzatori di questa serata. Ciao Marcello. Ciao ragazzi. Allora Marcello, la prima differenza che io ho notato quest'anno venendo all'Eden è questa, questa scritta sulla pubblicità, sui flyer, questo Reset. Cosa significa? Un Reset significa un rialzerare tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso e una programmazione totalmente nuova per quest'anno. Una programmazione un po' più internazionale, diciamo. determinati artisti per il primo periodo che facevano parte l'anno scorso dell'Eden verranno in uno secondo momento e all'inizio cercheremo di dare un'impronta leggermente diversa rispetto all'anno scorso, c'è un Eden un po' più internazionale. Sera, serata inaugurale. La location è sempre qui a Villacella a un passo da Reggio Emilia. Stasera cosa ci dobbiamo aspettare da questa inaugurazione di questa nuova stagione? Ma sai, allora, prima di tutto cambiamenti un po' particolari, tipo laser show, effetti speciali che l'anno scorso una volta c'erano, una volta no. E in più una programmazione con Deke Nassia, Rame, Big Edan, che comunque già dà un'impronta per quello che sarà l'Eden 2009-2010. Stato per dire, sabato prossimo, Chris Leaping! Poi Johnny D, Etichetta Oslo, Agna Snyder, Andre Galluzzi, Alicante e così via. Quindi un discorso un po' più improntato sulla scenografia, effetti speciali. Sarà un Eden un po' più particolare. Allora, amici di Enjoy Television, siamo qua nel backstage della console dell'Eden. Quest'anno Reset con un ospite speciale, Stefano Borelli. Ciao Stefano. Ciao. Allora, quest'anno collabori anche tu a questa serata, a questo sabato sera, che ricordiamolo, si tiene ogni sabato qui a Reggio Emilia. Io ho visto, insomma, che c'è una notrita schiera di ospiti previsti per questo inverno. Qual è la tua punta di diamante, quello che secondo te sarà il top di questa stagione invernale? Beh, insomma, diciamo che gli ospiti saranno tanti. Sicuramente quelli che avranno più effetto sul pubblico, sarà Chris Leaping, Luciano e un po' DJ tipo quelli della Mobiler e della Minus. Senti, io so che tu eri, dalle nostre parti si dice, impelagato anche nell'organizzazione dell'Air Festival che si è tenuto poco tempo fa qui a Reggio Emilia. Quindi quello che è denoto per la zona è una forte impronta elettronica, elettronico minimale. Prevedi che il futuro sia questo? Beh, diciamo che ci sarà sempre un'evoluzione della musica e secondo me questo genere un po' elettronico pian piano andrà a sciamare. Ritorneremo a un suono un po' più house, non dico cantato come poteva essere dieci anni fa, però con delle voci e comunque molto più morbido. Noi salutiamo gli amici di Angel Television, gli diamo l'appuntamento a sabato prossimo con Chris Liebing. Certo. E poi molto prossimamente ci sarà, diciamo, un altro festival con un grande ospite, Carl Cox. Sempre qui a Reggio Emilia? Sempre qui a Reggio Emilia. Bene, questa è una news. Grazie a tutti voi ascoltatori. Ciao.